Mi chiamo Veronica Maestrelli, abito a Tuenno e ho 22 anni. Suono il saxofono da 8 anni, sono all'ultimo anno di conservatorio. Quest'anno ho cominciato a insegnare alla scuola musicale con i bimbi piccoli, dai 4 ai 12 anni. Mi è piaciuto molto partecipare a questa serata, anche per l'unione tra la parola e la musica che c'è stata. Ho eseguito dei pezzi di questo compositore francese, di nome Coquelin, che sta a cavallo dell'800-900. Gli ho scelti anche perché erano molto melodici e potevano rendere un buon legame con il primo capitolo che hanno fatto oggi di Promessi Sposi. Grazie Grazie Grazie